Hai sentito? È arrivato il via libera finale alla direttiva europea sulle case green. La subdola strategia europea di mettere mano sulle case degli italiani non classificate a impatto energetico. Con l'obiettivo di dare l'ok alle grandi società di fondi immobiliari che come sciacalli si prenderanno per pochi spicci i nostri immobili. In questo video cercheremo di fare chiarezza su che cosa è stato provato per quanto riguarda la direttiva case green di cui parliamo un anno fa come ipotesi. È stata fatta una prima votazione più o meno alla fine dell'anno scorso e adesso è diventata legge. Quindi in quanto cofondatore di Vendaus società che opera nel settore immobiliare penso sia importante fare un approfondimento e capire che cosa ne sarà dei nostri immobili alla luce di questa direttiva europea. Se è vero che arriveranno i grandi fondi immobiliari che si accalapiranno come sciacalli i nostri immobili oppure no. Ci tengo comunque a precisare che in Italia ci sono molti posti dove puoi comprare una casa ad un euro al di là delle direttive europee. E ciò nonostante come a Patrica ad esempio le case si vendono sia ad un euro quindi figurati quanti fondi immobiliari possono andare a fare man bassa. Basta avere 10 euro e compri 10 case. Ciò nonostante nessuno le compra. Quindi scherzo e parte in questo video cercheremo di capire cos'è cambiato relativamente alla direttiva case green. Perché è andata meno peggio del previsto non è sicuramente un attacco alle case degli italiani anzi vedremo che ci sono contestazioni che potenzialmente è anche una direttiva abbastanza blanda. Il via libera della plenaria alla direttiva sulle case green si pone l'obiettivo di emissioni zero entro il 2050 per l'intero parco immobiliare dell'unione europea. E l'aspetto interessante è che l'intesa politica che è stata oggetto di non so quanti mesi di negoziazione prevede vincoli molto più soft cioè è molto meno stringente molto meno impattante di quanto non si pensasse tempo fa rispetto infatti alle richieste iniziali della commissione europea. La direttiva stabilisce un percorso verso un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050. Dal 2030 tutti i nuovi edifici residenziali dovranno essere costruiti per essere a emissioni zero e quando si parla del futuro ci penserà chi costruirà una casa nel futuro. La vera domanda è cosa succede agli immobili esistenti casa mia casa tua di cui siamo già proprietari dovremmo fare adeguamenti importanti? Ci sarà impedito di vendere questi immobili come sembrava emergere dagli scenari di un annetto fa? Cerchiamo di capirlo diciamo che la direttiva definisce degli obiettivi non dei veri e propri vincoli quindi la palla è passata poi a come la direttiva verrà implementata a livello nazionale recepita a livello nazionale. I primi a doversi adeguare sono gli edifici pubblici per le case invece si applicherà un obiettivo di riduzione del consumo energetico del 16 per cento dal 2030 e dal 20 22 per cento entro il 2035. Quindi in poche parole ci si è dati obiettivi di riduzione delle emissioni raggiungibili come comunque con un efficientamento energetico che può essere un mix di cappotto pannelli solari sostituzione della caldaia eccetera. Per garantire flessibilità ai governi le misure di ristrutturazione adottate dal 2020 tipo il super bonus 110 per cento saranno già conteggiati ai fini degli obiettivi prefissati e gli stati potranno scegliere se applicare esenzioni per gli edifici storici. Quindi in Italia ci sono tanti edifici storici non penso si metterà il cappotto gli edifici storici dei centri storici di conseguenza chi è nel centro storico sarà verosimilmente in buona parte esentato da lavori ad esempio alle facciate o di efficientamento termico delle pareti con un cappotto verosimilmente magari si parlerà di altri interventi sulle caldaie. Ecco non so se in Italia ci sono più edifici storici che non in Spagna Francia o Germania però insomma più o meno c'è comunque tutto quello che ha più di 200 300 anni entra dentro la sfera no edificio storico ma anche meno forse 100 anni e di conseguenza in Europa hanno gli stessi problemi che abbiamo noi in Italia no per quanto riguarda edifici di valore storico. Altre esenzioni anche per gli edifici agricoli per scopi militari e quelli utilizzati solo temporaneamente quindi tipicamente le seconde case una volta entrata in vigore i 27 paesi membri della comunità europea avranno due anni di tempo per adeguarsi alla direttiva presentando a Bruxelles un piano nazionale di ristrutturazione. Questo è l'aspetto principale la comunità europea ha dato le linee guida ha dato solo degli obiettivi ma i paesi della comunità europea quindi l'Italia nel nostro caso deve creare un piano nazionale di ristrutturazione da presentare in commissione europea relativamente alla tabella di marcia per indicare come verranno raggiunti questi obiettivi. Quindi è molto più soft molto meno impattante di quanto non si pensasse un anno fa perché di fatto sono stati definiti degli obiettivi macro e invece l'applicazione e il raggiungimento di questi obiettivi è stato delegato a decisioni in capo ai singoli stati. Per due anni con fedelizia che l'associazione dei proprietari di casa si è battuta con successo per eliminare le parti della direttiva più pericolose per il risparmio degli italiani in particolare quelle che imponevano rilevanti e costosi interventi su milioni di mobili entro scadenze quasi immediate. Se ce lo ricordiamo si parlava davvero di fare passaggi di due classi energetiche per non so quanti milioni di mobili entro tipo dieci anni c'è una cosa irrealizzabile veramente un puro esercizio teorico infattibile dal punto di vista pratico e invece questi obiettivi sono stati ridimensionati di fatto c'è un obiettivo di risultato. Questo è un po' il tema no anche perché da un lato prima si parlava di azioni adesso si parla di risultato che deve essere ottenuto tramite azioni che devono essere decise dai singoli stati però non è ancora chiaro quali reazioni verranno poi fatte per raggiungere l'obiettivo lo ripeto di immobili l'impatto ad emissioni zero nel 2050 il 2050 è tra 25 anni cioè non è così lontano se ci pensiamo soprattutto per fare interventi su una quantità di immobili veramente importante. Parliamo di decine di milioni di immobili sicuramente questo approccio porta ad una maggiore personalizzazione del percorso di efficientamento degli immobili per considerare anche specificità tipiche del patrimonio immobiliare del singolo stato in particolare l'Italia è fatta di piccoli proprietari se prendiamo la Germania ci sono dei colossi immobiliari che detengono migliaia e migliaia di appartamenti per loro è anche più facile fare operazioni di ristrutturazione. In Italia e magari nello stesso condominio ci sono 200 famiglie magari un condominio bello grosso e quindi mettere d'accordo 200 teste pensanti è difficile ed è quindi oggettivamente più complesso mettere in atto azioni di efficientamento energetico quando c'è una frammentazione del patrimonio immobiliare così come abbiamo in Italia. Pensione, ne riceverai mai una? Il sistema previdenziale italiano sta cambiando ed è importante essere ragionati su questi cambiamenti così da non farsi trovare impreparato. Per questa ragione abbiamo organizzato il 3 aprile alle ore 21 un evento totalmente focalizzato sul tema pensione che ha l'obiettivo di farti capire qual è lo stato di salute del sistema previdenziale e quali sono le strategie da mettere in atto per poter garantirsi una pensione futura, serena e tranquilla. L'evento è totalmente gratuito puoi iscriverti cliccando il link che trovi in descrizione di questo video. Quindi saltano i vincoli sulle classi energetiche, arriva un obiettivo generico di riduzione dei consumi, mancano ancora le regole che dovranno essere applicate e soprattutto manca anche capire come verranno finanziati questi interventi. Quindi il sostegno economico da parte dell'Unione per finanziare questa politica. Le caldaie a gas saranno messe al bando dal 2040 ma già dal 2025 potrebbero mancare gli incentivi per installarle. Questa è un'altra cosa da considerare 2025 è l'anno prossimo quindi riempitevi garage di caldaie a gas prima che spariscano gli incentivi. No sto scherzando però insomma questi sono cambiamenti che potrebbero essere veramente imminenti. Saranno promossi altri sistemi di riscaldamento come quelli ibridi che combinano le caldaie con le pompe di calore e il solare termico. Non sono esperto di queste tecnologie ma se sei un termotecnico scrivici cosa ne pensi di questo cambiamento nei commenti. Resta il nodo delle risorse da stanziare per finanziare gli interventi. Al momento non sono stati trattati all'interno della direttiva europea quindi per ora non si useranno risorse del bilancio dell'Unione europea per finanziare gli incentivi. Ma prima o poi verrà richiesto qualche soldino da parte dei singoli stati nazionali per finanziare questa direttiva e magari chi lo sa potrebbe esserci una nuova emissione di obbligazioni europee. È già successo per finanziare il PNRR potrebbe risuccedere a chi lo sa. Le risorse rischiano di essere un forte ostacolo alla buona riuscita del programma. Va bene gli obiettivi ma servono gli sghei. La pecunia. Ogni stato membro però potrà stabilire un piano nazionale di ristrutturazione adattandolo alle esigenze di ogni singolo paese. Quindi sarà l'Italia a decidere casa per casa. Ovviamente rimane il tema. Ok ma c'è una qualche obbligatorietà e cosa succede se io non voglio efficientare casa mia? Questo non è ancora molto chiaro perché dipende da come verrà recepita la direttiva a livello nazionale e quindi entrerà in gioco la politica. Quindi anche la domanda quanto potrebbe costarmi adeguare casa mia? Aveva senso porsi questa domanda quando un anno fa sembrava davvero che ci sarebbe stato un obbligo nell'efficientamento energetico. Qui non è chiaro che cosa succede se tu non efficienti energeticamente casa tua. Potenzialmente niente. Potrebbe essere che gli obiettivi posti dalla comunità europea non vengono raggiunti a livello nazionale e semplicemente la comunità europea dà delle multe magari ad ogni singolo stato che non è stato in grado di mettere in campo le azioni decise a livello di comunità europea. Niente di diverso di quanto non succeda ad esempio per lo smog. Cioè ci sono direttive europee che prevederebbero un contenimento delle emissioni inquinanti. Ad esempio ai valori di PM10. Continuiamo a pagare le multe perché alla fine continuiamo a sforare. Quindi alla fine potrebbe potenzialmente andare anche a terra luce vino. Cioè l'abbiamo visto all'inizio dell'anno no? Abbiamo sforato tutte le soglie di inquinamento della pianura padana quantomeno livelli di inquinamento di Milano paragonabili a Nuova Deli. Siamo costantemente in infrazione di quelle che sono le direttive della comunità europea. Paghiamo le nostre multe. Non vedo grandi impatti o cambiamenti a livello politico. Di conseguenza chi lo sa però sembra sicuramente molto meno impattante di quanto non sembrasse un anno fa. Con una forte possibilità che vada a finire a terra luce vino. In questa infografica è un po' riassunto tutto. Te la lascio da guardare con calma nella presentazione in cui trovi tutte le fonti che ti ho condiviso in questo video. Nomismac è la società bolognese che spesso citiamo su questo canale per le analisi del settore immobiliare e l'andamento del mercato immobiliare. Boccia la decisione UE. Regole troppo blande. Più che altro perché delegando in modo così poco chiaro solo sul risultato finale i singoli stati non è ben chiaro in che modo i singoli stati dovranno andare ad operare. Paradossalmente la versione precedente che poi non è passata non è stata approvata in cui c'era un vincolo per le classi energetiche. Ovviamente non era realizzabile dal punto di vista pratico perché i tempi per ammodernare il patrimonio immobiliare erano troppo brevi. Però era chiaro almeno quali erano gli immobili su cui andare ad intervenire. Infatti Marco Mercantilli responsabile sviluppo di Nomismac dice con il testo iniziale quello di un anno fa avremmo avuto una mappatura dell'intera città metropolitana con gli edifici che necessitano di interventi. Oggi invece è ancora difficile capire cosa succederà. La prima versione della direttiva sarebbe stata più utile e mirata ovviamente andava reso praticabile il piano però era più facile capire su quali tipologie di immobili focalizzare la priorità di ristrutturazione. Gli obiettivi di risparmio aggiunge devono essere raggiunti intervendo sugli edifici più energivori quindi bisognerà capire come il governo penserà di ripristinare i dispositivi per favorire questi interventi. Cioè in altre parole se dobbiamo ridurre il consumo del 16% e secondo le scadenze che abbiamo visto precedentemente dobbiamo raggiungere questo obiettivo lavorando sugli edifici che consumano più energia. E non è chiaro come verranno identificati e non è chiaro quali sono le azioni che verranno fatte poi su questi immobili. Quello che emerge è più che altro un'impressione perché ancora non è chiaro come verrà recepita a livello nazionale è che probabilmente si faranno interventi più piccoli. Potenzialmente basta ragionare sugli impianti di riscaldamento quindi cambiare le caldaie non serve agire sull'involucro quindi sul cappotto per intendersi quindi potenzialmente se ci saranno da fare degli interventi si potrebbe sono tutte stime raggiungere l'obiettivo in certe zone semplicemente ammodernando gli impianti di riscaldamento e o raffrescamento. Quello che interessa a noi è capire come si comporta il mercato immobiliare alla luce di questi cambiamenti perché lo ripeto siamo detentori di immobili prima casa seconda casa o immobili a reddito o magari fai operazioni immobiliari come sottoscritto e vuoi capire dove andrà il mercato. Bene la domanda è attenta cioè la domanda i consumatori chi compra casa è attento in quanto ha capito che tutto questo ha un impatto sui costi di gestione quindi c'è comunque una maggiore sensibilità. Magari la direttiva europea andrà a finire a taralluce vino ma adesso e ce lo confermano degli agenti immobiliari e se sei un agente immobiliare scrivicelo nei commenti se condividi o no questa riflessione ma adesso le persone vanno anche a chiedere ma quanto costa questo immobile dal punto di vista del riscaldamento ogni anno? l'intero mercato immobiliare sta cominciando a comportarsi come quello dell'automotive cioè guarda anche se la macchina è euro 3 euro 4 euro 6 non si parla più solo di prezzo ma anche di costi e di performance energetica ambientale quindi cosa servirà per mantenere adeguato e appetibile a eventuali compratori il patrimonio immobiliare o casa tua se vuoi mantenerla appetibile sul mercato? andrà innescato un dispositivo per consentire a tutti di fare interventi di riqualificazione senza un minimo di incentivi e cessione del credito però non c'è direttiva che tenga soprattutto considerando la difficoltà delle famiglie perché il 50% è in difficoltà e adesso arrivano le brutte notizie perché qua si parla di cessione del credito e quindi non possiamo parlare della fine del super bonus la seconda notizia relativa all'immobile più importante delle ultime settimane sì perché per il super bonus arriva lo stop all'accessione del credito e agli sconti in fattura 27 marzo questa di qualche giorno fa questa notizia arriva la stretta finale lo prevede il decreto legge approvato dal consiglio dei ministri guidato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti che è definitivamente chiusa l'eccessiva generosità di questa misura che ha causato gravi problemi di finanza pubblica ne parlamo più o meno a settembre ottobre dell'anno scorso quando si è capito che il costo del super bonus 110% era ampiamente sopra le stime dei governi che l'hanno approvato e questa patata bollente è stata poi dovuta gestire dal governo Meloni che piano piano ha dovuto mettere delle pezze qua e là e l'ultima di queste pezze è l'addio allo sconto in fattura e l'accessione del credito scompare quindi lo sconto in fattura così come l'accessione del credito e arriva la dichiarazione preventiva interessantissimo cos'è la dichiarazione preventiva fondamentalmente per accedere alle agevolazioni edilizie bisognerà comunicare di volerlo usufruire prima dell'invio delle fatture e a lavori già avviati così da avere un monitoraggio completo del fenomeno la logica dei crediti d'imposta e la loro cessione ha portato ce lo ricordiamo più o meno a 7 8 miliardi di euro di truffa ai danni dello stato perché la gente generava crediti senza aver fatto i lavori e questa nuova logica della dichiarazione preventiva prevede che i crediti d'imposta verranno maturati dopo che sono stati sottratti prima i debiti cioè eventuali soldi che tu devi allo stato quindi in due parole prima che tu vada a vendere questo credito prima vai a scontare eventuali soldi che tu devi allo stato tasse imposte IVA F24 eccetera una volta che hai scontato i soldi che dovresti allo stato dopo vediamo cosa farne di questo credito quindi fondamentalmente il giochino del super bonus 110 per cento sembra essersi ufficialmente inceppato intanto era già sceso al 70 per cento dall'inizio dell'anno chi è che si salva ancora con la cessione del credito fondamentalmente quei condomini che hanno già presentato la cila dichiarazione di inizio lavori semplifichiamola così per i non esperti e nei condomini chi ha già votato la delibera assembleare dei lavori per tutti gli altri ormai il treno è passato non c'è più non solo il 110 per cento ma non c'è neanche più la cessione del credito quindi la vera domanda è come si potrà raggiungere un obiettivo così ambizioso da un lato efficientamente energetico edifici a impatto zero nel 2050 e dall'altra parte strumenti per sostenere il rinnovamento del patrimonio immobiliare che hanno dimostrato di mettere in crisi le finanze pubbliche in stati come l'italia in cui fatta la legge trovato l'inganno e trovati 7 miliardi di truffa ai danni dello stato non è chiaro come si troverà una quadra a questa situazione perché da un lato c'è l'obiettivo dall'altro c'è uno strumento che ha mostrato i suoi limiti che comunque dovrà essere creato per riuscire a fare un lavoro così ingente di ammodernamento di così tanti immobili una cosa è certa il ragioniere dello stato che ha fatto i conti sul super bonus tale biaggio mazzotta sembrerebbe essere in vista di una buona uscita proprio per le gravi sottostime di costo del super bonus 110 per cento in quanto responsabile della ragioneria di stato quindi come comprare casa oggi alla luce di queste considerazioni innanzitutto viviamo in un mondo incerto in cui non è ben chiaro come verrà recepita questa direttiva una cosa è certa la sensibilizzazione del mercato sta avvenendo quindi come in certe zone non lo so in pianura padana certi veicoli non lo so euro 2 non possono più entrare nelle città o anche gli euro 3 di conseguenza un veicolo euro 2 euro 3 ha un valore molto più contenuto è impossibilitato ad utilizzarlo ovunque una cosa simile potrebbe succedere anche per gli immobili quali tipicamente quelli che potrebbero avere un efficientamento energetico ma non l'hanno avuto quindi in zone in cui il riscaldamento ha un costo importante tipicamente il centro nord e su immobili che non hanno avuto un efficientamento energetico sufficiente cosa vuol dire sufficiente non lo so neanche io lo scopriremo da come verrà recepita questa direttiva a livello nazionale una cosa è certa solo dei pazzi comprerebbero casa oggi perché tra breve l'europa ve la prenderà abbiamo capito come no non l'abbiamo capito non ve la prenderà ma più che altro il problema è l'escalation di una guerra termonucleare globale